bene trovate a tutti amici di Radio Rosso Nera ormai ci siamo è venerdì diciassette e quindi tempo del sorteggio siamo arrivati quindi al giorno in cui si decidono gli accoppiamenti per i quarti di finale ma siamo anche alla vigilia di una partita perché domani il Milan torna in campo torna in campo ad Udine tra poco vedremo anche la probabile formazione con qualche cambietto nei primi undici vado a salutare subito Enrico Boiani ciao Henry ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti dai ci siamo è tempo di Champions League in realtà prima ancora del campionato perché come detto tra un paio d'ore ci siamo eh sì tra poco arrivano i i sorteggi magari qualcuno guarderà questo video quando già eh i sorteggi saranno avvenuti eh però sì ecco noi registriamo a poche ore dal sorteggio c'è ansia c'è tensione ieri lo abbiamo anche simulato invitiamo ad andare a vedere il talk di ieri perché abbiamo fatto anche una sorta di di panoramica su tutti quelli che sono gli avversari quindi se guardate questo video quando il sorteggio è già avvenuto andate a vedere il talk di ieri per capire l'avversario che abbiamo pescato e e niente dai speriamo di di vivere un bel sorteggio ci è già andata bene due volte quest'anno eh facciamo andar bene anche perché questo è l'ultimo eh esatto quindi direi o si fa non c'è due senza tre che non sarebbe male oppure credo che come dire la sorte si si fermerà ecco la buona sorte si fermerà eh quindi o o si tira dritto o ci arriva proprio la battosta non ci sono mezze misure secondo me alle 12 come detto ci riapriamo qui sul canale youtube di radio rossonera in diretta per seguire live il sorteggio direttamente da neon con il nostro studio virtuale andiamo a vivere insieme la cerimonia e non sarà lunghissima visto che comunque sempre solo otto squadre saranno per gli accoppiamenti dei quarti di finale e anche del tabellone perché si deciderà anche quale dei quarti si incrocerà l'un con l'altro nelle prossime semifinali Harry noi andiamo a vedere qualcosa che è legata appunto a questo su su gazzetta dello sport e poi come detto andremo a parlare anche di Udinese Milan perché tra 24 ore si gioca per davvero Maldini e Ancelotti Lukaku col Chelsea Kim contro Colibali quanti incroci di cuore il sorteggio offre possibili duelli tra amici e rivali da un Aranghissà a Ostigard che storie sì vabbè per noi c'è poco da fare o prendiamo l'Inter o prendiamo il Real direi sì credo che Maldini contro Uncelotti sia leggermente diverso da Ostigard contro Holland però sì cioè nel senso anche con Aranghissà forse trova c'è sempre il modo di trovare corsi e ricorsi storici perché il Chelsea l'è affrontata ai gironi la rivalsa e lo spirito di vendetta perché il Benfica Manuel Roicosta e l'Inter non c'è bisogno di specificarlo il Napoli nemmeno e poi chi è che c'è il Real Ancelotti forse il Bayern è l'unica squadra con cui non abbiamo connessioni ecco attuali però ci riguarda vecchi quarti passati ecco e il City forse il Bayern nel City sì Guardiola però non è che ci sia questo grande incrocio con Bayern e City le altre sì Milan Napoli Inter assalto al meglio d'Europa nel nome dei maestri Spalletti può ispirarsi al Milan di Sacchi non so il perché Pioli a quello di Ancelotti non c'entra niente neanche qui e in Zaghi all'Inter di Mu però non c'entra nemmeno in non lo so questo non l'ho mai capito perché paragonare le vecchie squadre che non c'entrano mai nulla dal passato la spinta per le semifinali questa coppa indicefabile il sorteggio può dare una mano e il derby italiano è probabile è probabile sì visto che una squadra italiana ha sette possibilità di incroci e due di queste sono italiane quindi insomma la probabilità non è la probabilità che si alza se le prime pescate dovessero essere come dire non italiane cioè se le prime due che vengono su sono Benfica e Bayern la probabilità che si incrociano gli italiani non dico certo ma l'abbiamo già detto spesso però per ripetere la tua favorita e la tua proprio no la mia favorita è il Chelsea la mia proprio no è l'Inter per ragioni diciamo di cuore di sanità mentale il Bayern per ragioni di test e di campo la mia favorita è il Chelsea anche per me eviterei invece il no dai ti direi il Real Madrid perché il Real Madrid in Champions League è da evitare fino all'ultimo atto sperando che ne so che qualcuno impazzisca al decimo e si faccia sbattere fuori e provare a giocarla in 10-4-11 ma come dice gazzetta dello sport siamo un po gli imbucati alla festa perché se guardate questi sono i ricavi in milioni di euro lasciate stare l'Inter che è una cifra un po' particolare per via della sponsorizzazione di Suning che vabbè ci siamo capiti i siti fattura 731 Real 720 anche il sito e vabbè il Bayern 654 e qui ci siamo il Chelsea 568 l'Inter e avanti il Milan 258 tra l'altro Milan punta arrivare ai 300 quest'anno dovremmo dovremmo esserci con il Benfica poco sotto i 200 e il Napoli 152 quindi c'è tantissima differenza di ricavi ad esempio tra il Napoli che è primo in campionato in Serie A e ai quarti con ad esempio il Bayern che fattura 650 milioni questo è devo dire che non so se arriveremo mai a certi livelli noi l'auspicio c'è però essere tra le super top poter dare certi ingaggi avere certi tipi di partnership significa arrivare verso quelle cifre lì non dico il Real perché è il Real però verso il Bayern o il Chelsea ecco arrivare a quelle cifre lì sarebbe sarebbe straordinario ecco sarà difficile non so se ci crederemo mai credo credo di no a proposito di difficile Henry è difficile anche la trasferta a Udine e qui chiudiamo parlando della provabile formazione questa è gazzetta dello sport anche se ora la leggo vabbè il 16 che non vedete che sta scorrendo il banner è Mike Mignan però il banner lo tengo perché ai 12 c'è il sorteggio e lo seguiamo in diretta così chiunque sa che siamo in diretta in difesa Calulu ciao e Tomori non si toccano a centrocampo tornare bene a ser Idem e Ernanti e Hernandez nemmeno a parlarne Salma che è in vantaggio su Florenzi Leao gioca con Diaz che è in vantaggio su De Chetelare anche se ieri il ballottaggio si è un po' assottigliato nelle percentuali quindi terrei aperta la doppia chance qui con Zlatan Ibrahimovic davanti che invece sarebbe vincendo il ballottaggio anche se non ha un grandissimo minutaggio lo dovrebbe così diciamo usare tutto nei primi 45-60 minuti partendo dall'inizio mi piace mi piace sarei anche curioso di vedere Leao con De Chetelare Ibro lo dicevamo anche ieri però questa formazione ci può stare dai Idem e Florenzi non è entrato male con la con la Salernitana e quindi ci può stare anche che si imballottaggio ecco per me ci sta iniziare con Salma perché è già Ibra col minutaggio diciamo ridotto tra i titolari l'Udinese è questa la conosciamo la solita squadra fisica che comunque ha anche un po' di rapidità sulle fasce in avanti è una partita ostica sarà ostica sarà molto dura lo sappiamo e niente ma guarda io ti dirò penso che alla fine possa giocare Diaz per un motivo tra Ibra e Giroud c'è una differenza che Olivier è una mano dietro la dà e mettere insieme tutti nello stesso momento a Udine quindi dove c'è una squadra che è brava anche a ripartire fa della felicità della corsa anche del suo calcio mettere tutti insieme Ibra Leao e De Ketelare insieme forse un po' ti sbilancia però per me però a livello di fisicità a livello anche di dare una mano dietro forse De Ketelare può essere un pochino più utile rispetto a Diaz Diaz in questa partita qua rischia veramente di sparire quindi non lo so a me non dispiacerebbe poi dopo il titolare in questo momento è Diaz ed è ovvio che dà qualcosina in più però sulla carta ecco noi siamo arrivati in chiusura Henry ci ritroviamo tra poco con Chiamamian sull'altra piattaforma che finirà 5-10 minuti prima per dare spazio alle 12 alla live reaction dei sorteggi di Champions League Henry grazie grazie a te mi raccomando mettete like scriveteci sotto nei commenti la vostra sul sorteggio perché se l'avete visto dopo il sorteggio diteci direttamente cosa ne pensate di chi abbiamo pescato iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per tutte le notifiche se vi va abbonati grazie a tutti ci ritorniamo tra pochi minuti ciao